Ciao a tutti i diavoletti, oggi è una bellissima giornata, guardate! È veramente una bellissima giornata! E il nostro cagnolino, sì, proprio il nostro cagnolino che sta girando da tre ore... Tre ore? Vuole giocare e vuole uscire, guardate! Vai, Hop! Che carino! Sta giocando con quel gioco da tre ore e io mi scoccio, Vinci! Anch'io, quindi adesso usciamo? Andiamo via! Eh, Vinci, ma aspetta! Dobbiamo portare anche il nostro cagnolino con noi se vogliamo uscire! Eh, sì, in effetti... Oh! 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 Vieni qui! Vieni qui, vieni, dobbiamo indossare il vestito! Ok, noi andiamo via! Vinci, andiamo via! Buona giornata, noi andiamo proprio via, ciao! Ti lasciamo qui! Uh, è venuto! Ok, adesso vieni! Vieni qui che prima di uscire devi indossare il vestito! Il vestito, Anto, ma non fa un po' troppo caldo? Non lo so! Ok, diavoletti, qui abbiamo un vestito di pelle con le stelle, guardate che carino! E poi c'è questo giubbotto, veramente bellissimo e fashion, non trovi, Hop? Questo è il preferito del nostro cagnolino! E poi c'è questa felpa verde, è il verde, il colore preferito di Vinci! Oh, il verde è il tuo colore preferito, vero Vinci? Allora, Hop, dai, quale vestito vuoi indossare per uscire? Sta scegliendo, sta scegliendo! Oh, cosa? Oh, oh, cosa? Ha scelto questo foglio? Non voglio vestiti, ho caldo! Ha proprio ragione, Anto, fa davvero tantissimo caldo e tu volevi mettergli una felpa, ma forse sei un po' impazzito! Oh, diavoletti, fa troppo caldo, fa troppo caldo e il nostro cagnolino vuole uscire senza vestiti! Stai anche dormendo? Hai sonno? Ok, Hop, andiamo, usciamo senza vestiti! Andiamo che dobbiamo divertirci tantissimo! Aspetta, aspetta! Manca una cosa importante! Cosa? Il collare e il guinzaio! Oh sì, dimenticavo, non possiamo uscire senza mettere il guinzaio! Eh sì, perché se non mettiamo il guinzaio al nostro cagnolino, il nostro cagnolino potrebbe scappare! E potrebbe perdersi, potrebbe essere davvero molto pericoloso, quindi, diavoletti, il guinzaio sempre! Ok, diavoletti, qui abbiamo due guinzaio! Uno che abbiamo regalato al nostro cagnolino, questo è veramente speciale, guardate che bello! Questo collare è veramente chic! E poi abbiamo questo qui, viola e nero, molto semplice! Quale sceglio? Oh, dove sta andando? Cosa? Ha scelto questo foglio? Non voglio mettere il guinzaio! No, 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 forse non ti è chiaro! No, è inutile che fai casino, è inutile che fai casino perché tu devi mettere per forza il guinzaio! Esatto! Il guinzaio è una cosa fondamentale perché... È d'obbligo! Perché se noi non ti mettiamo il guinzaio, tu potresti scappare per strada e potresti perderti! Ok, ti metto questo perché, visto che dobbiamo andare al parco, potresti sporcarti! E questo qui non si deve sporcare! Ok, è inutile che piangi, è inutile che piangi, ti dobbiamo mettere il guinzaio! Esatto, Anton, muoviti, mettiamolo! No, è inutile che fai casino! Ok, diavoletti! Messo! Andiamo! Andiamo! Con il guinzaio non succederà nulla perché sarà sempre a portata di mano! Ti lancio una sfida! Una sfida? Eh sì, il nostro cagnolino deve uscire a scendere tutte queste scale e ne sono veramente tantissime! Cosa? Soltanto in un minuto! In un minuto deve scendere tutte le scale? Sì, guarda che il timer è iniziato, quindi sbrigatevi! Ok, corri! Tutte le scale, corri! Attenzione a non cadere! Diaboletti, abbiamo un minuto per scendere tutte le scale! Non fermarti, non fermarti, corri! Corri, 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 abbiamo un minuto! Bravissimo, bravissimo! Corri! Corri, corri! Il tempo scorre! Vigi, Vigi, ti odio a non fare queste sfide! Corri! Corri, corri! Mancano davvero tantissime scale, dobbiamo sbrigarci! Muoviti, Anton, mancano pochi secondi! Vigi, corri! Corri! Ce l'abbiamo fatta, sì! Che bello! Ok, è stato veramente faticoso! E il nostro cagnolino ha anche caldo! Oh, poverino, ha corso così tanto! È stata una pessima idea, perché adesso ho davvero tantissimo caldo! Ok, ma adesso facciamo una passeggiata come si deve, dai, dai! Alla fine abbiamo vinto la challenge! Sì, certo che sì! Ok, certo, Hop, che non ti stanchi mai tu! Hop, fermati! Anto, non correte tanto, fa veramente tantissimo caldo! Che bello correre, ma fa veramente tantissimo caldo! Anto, ti lancio una sfida! Cosa? Un'altra sfida? Il nostro cagnolino deve riuscire a fare il giro di questa fontana senza cadere in acqua! Cosa? Ma tu stamattina hai bevuto qualcosa invece dell'acqua? Dai, dai, così mi diverto un po'! Ok, ho... Cosa, cosa fai? Sto facendo la plin plin, non guardate! Ok! È finito? È finito! Adesso, diavoletti, il nostro cagnolino deve fare il giro di questa fontana senza mai cadere! Oh, dobbiamo stare molto attenti, ovviamente! Eh sì, perché il nostro cagnolino potrebbe cadere in acqua! E guarda, quest'acqua è veramente... Schifosa! Eh sì, è un po' sporca! Molto sporca! Ok, ho... Tieni piano piano! Cammina! Non cadere in acqua, non sborgetti troppo! Corri! Oh, cammina! Cammina, non avere paura, cammina! Cammina! Bravo che sei, bravo che sei! Cammina, cammina! Attenzione, ci sei quasi! Diavoletti, stiamo facendo il giro della fontana senza cadere! Ci stiamo riuscendo, ci stiamo riuscendo, siamo bravi, vero diavoletti? Non fermarti, non fermarti! Ci siamo quasi! Oh, questa challenge è veramente impossibile! Il nostro cagnolino si è stancato, si è stancato! Non buttarti in acqua, eh, oh! E neanche a terra, ovviamente! Dai, oh! Vieni, vieni, vieni qui! Non fermarti adesso! Vieni, vieni, vieni qui! Vieni qui, vieni qui! Ce l'abbiamo quasi fatta! Ce l'abbiamo quasi fatta! Ce l'abbiamo quasi fatta! Ce l'abbiamo quasi fatta! Sì! Ha fatto il giro della fontana, diavoletti! Il nostro cagnolino è veramente bravo! Tutto il giro della fontana senza neanche sfiorare l'acqua, bravissimo! Ok! Continuiamo a correre? Oh no! Continuiamo a correre? No, non ci credo! Lo stanno per fare! Non correte troppo! Ah! Finalmente hanno smesso di correre! Finalmente! Non posso avvicinare lì! Questa pianta è velenosa! Cosa? Eh? Vici! Questa pianta è velenosa! Questa pianta è velenosa! Ok, grazie dell'informazione! Oh, diavoletti! Il nostro cagnolino, il nostro cagnolino si era avvicinato a quella pianta e quella pianta è velenosa! È spaventoso! Allontaniamoci da qui! Corri! Corri! Ok! Vinci! Mi è venuta un'idea! Una grande idea! Sputerò, Spoh! Allora, visto che il nostro cagnolino è molto bravo a nascondersi e sappiamo giocare a nascondino benissimo, sai cosa faremo ora? Giocheremo a nascondino! È fantastico! Vado a nascondermi! Vinci, no! Non devi nasconderti tu! Ma chi deve nascondersi? Il nostro cagnolino! Cosa? Ma tu sei impazzito! È molto pericoloso! Vinci, adesso metto il nostro cagnolino a terra e va a nascondersi! E poi noi dobbiamo cercarlo! Oh no! Hop, non immischiarti in qualche posto pericoloso! Vai a nasconderti, Hop! Vai! Vai! Vinci! Ok, diavoletti sta andando a nascondersi! Chissà dove andrà! Poverino! Dove sarà andato? Diavoletti, il nostro cagnolino è andato a nascondersi! Dove è andato il nostro cagnolino? È proprio qui dietro! No, non è qui, Vinci! È andato qui, ma non è qui! E perché non è neanche laggiù? Dove sarà mai andato il nostro cagnolino? Diavoletti, stiamo giocando a nascondino con il nostro cagnolino! E abbiamo fatto una cosa veramente sbagliata! Perché il nostro cagnolino potrebbe perdersi! Non sa la strada di casa! È terribile! Hop! Hop, dove sei? Vinci, qui! Aspettami! Forse è qui dentro! Nessuna traccia? Forse il nostro cagnolino si nasconde qui dentro, dentro il cestino della spazzatura! Hop, ci sei? No, Hop non c'è qui! Soltanto immondizia! Hop, dove ti sei nascosto? Vinci, Vinci! Forse sei nascosto in un albero, vieni! Ok! Pensavo fosse Hop come solo un uccellino! Vinci, qui c'è un nascondiglio, guarda! È un albero, questo è proprio un nascondiglio perfetto! Non è che il nostro cagnolino sia nascosto qui dentro! Oh, ci sei? No, non c'è nessuno in questo tronco! Nessuno? Non c'è nessuno, guarda Vinci! Proprio nessuno! Vinci! No! Non c'è niente qui dentro, solo rifiuti! Ma ce n'è un altro lì? Ok! C'è qualcosa? Nessuna traccia del nostro cagnolino! Solo rifiuti! Non mi sento bene! Non mi sento proprio bene! È stata tutta colpa tua! Perché hai voluto giocare a questo nascondino terribile? Vinci, forse sei nascosto nella fontana! Ok Vinci, vedi il nostro cagnolino nella fontana? No! Non c'è nessuno nella fontana! Non ci sono neanche pesci e non c'è neanche il nostro cagnolino! Mettici la mano dentro! Io devo mettere la mano in questa fontana! Vinci, non è nella fontana! Non è nella fontana! No! Forse è qui dentro! Forse è qui dentro! Lentamente! Non è il nostro cagnolino! È solo un gabbiano! Un gabbiano grigio! Che sta camminando lentamente! Ok, ma noi dobbiamo controllare lì! Quindi dobbiamo fare molta attenzione lentamente! Fa sì che non ci veda! Vinci, non è che quell'animale ha mangiato il nostro cagnolino? No, Ant, non credo proprio! Il suo stomaco è grande quanto il nostro cagnolino! Ok, controlliamo in questo cestino! Oh, sei qui dentro! No, solo rifiuti! Una bottiglia e dei fazzoletti! Non c'è il nostro cagnolino qui dentro! Oh, qui il gabbiano si sta avvicinando a noi! Andiamo da quest'altra parte! Si sta avvicinando, si sta avvicinando! Cosa? Ma il nostro cagnolino si è nascosto in questo buco? Furbetto, ti sei nascosto proprio bene! Prendiamolo! Diavoletti? Non sei tutto sporco! Abbiamo trovato il nostro cagnolino in questo buco! Eh sì, era proprio qui dentro! Ma ti si è arrampicato e poi sei entrato in quel buco! Ok, diavoletti, abbiamo trovato il nostro cagnolino in quel buco! Vi rendete conto? Proprio lì! Sei molto furbo! Vi avevo detto che il nostro cagnolino è bravissimo a giocare a nascondini! Diavoletti, continuiamo a fare la passeggiata! Oh no, di nuovo! Non correte, aspettatemi! Ok! Perché ti stai avvicinando a questi cespugli? Vinci! Cos'è questo verso? Senti anche tu questo verso! Vinci, c'è un verso strano vicino a questi cespugli e il nostro cagnolino è vicino! Io so che il verso è! Queste sono delle api! Sono delle api! Questo cespuglio si nascondono delle api giganti! Secondo me in questo cespuglio c'è un aldeare! Oh, fermati! Diavoletti, il nostro cagnolino si vuole avvicinare a questo cespuglio! Perché ha tratto? Non ti avvicinare! Ci sono le api! Allontanati subito da lì! Diavoletti, il nostro cagnolino è proprio vicino a questo cespuglio! Ma si deve allontanare perché le api potrebbero pungerlo! Sapete cosa succede se un cane viene punto da un'ape? Diventa così? Si gonfia! Hop, vieni qui! Andiamo via! Si, che bello! Si sta divertendo tantissimo, diavoletti! Anto! Che c'è? Ho una sfida per te! Una sfida? Un'altra sfida? Dai, dimmi! Tu e il nostro cagnolino dovete riuscire a salire e scendere queste scale in 30 secondi! In 30 secondi? Noi dobbiamo salire e scendere queste scale! A partire da... Ora! Ora? Ok, Hop, devi correre! Corri qui! Abbiamo 30 secondi! Voi puoi cadere? Ok! Qualche secondi restano? Muoviti! Corri! Corri! Non fermarti! Corri, Hop! Corri! Ce la faremo! Ce la faremo! Ce l'abbiamo fatta? Che bello! Ok, Vinci, basta fare queste sfide perché io e il nostro cagnolino ci stanchiamo! Dai, sono molto divertenti! Diavoletti! Qui c'è una fontana di acqua fresca e visto che il nostro cagnolino ha tanto caldo possiamo rinfrescarlo un po'! Prendiamo un po' d'acqua! E mettiamola un po' sulla testa del nostro cagnolino! Ok, gli fa proprio bene! Ok! Adesso ha la testa bagnata, guardate! Ti senti molto meglio? Sì, si sente meglio, mi ha dato il bacio! Diavoletti, ma cosa sono questi fiori viola? Cosa sono? Prova a toccarli, Vinci! Ok! Vinci, hai visto? Del fumo? Sì, sono bollenti! Questi cosi viola sono bollenti! Dove vai? Perché il nostro cagnolino vuole toccare questi cosi viola? Guarda! Guarda il fumo sotto le sue zampe! Oh, nini qui! Oh no! Avete visto? Il nostro cagnolino si è scottato, si è scottato perché ha toccato questi cosi viola! E secondo me questi cosi viola sono bollenti! Ok, Vinci! Cambiamo strada, cambiamo strada! Perché qui ce ne sono tantissimi! Ok, Vinci! Io ho sentito che in questo parco ci sono delle giostre e il nostro cagnolino ama le giostre, vero? 3, 2, 1... Dobbiamo solo stirare che il nostro cagnolino non vomita! Oh, vuoi fare questo scivolo? Sì! Vuole farlo, mi ha dato il bacio! Vinci! Ma è molto pericoloso perché il nostro cagnolino potrebbe sentirsi male! Ok, Vinci! Dammi buona fortuna! Vai di là! Ok, buona fortuna! Ok! Ok! Diavoletti! Adesso io e il nostro cagnolino faremo uno scivolo insieme, vero? Hai paura? Hai paura? 3, 2, 1... Ok! Speriamo di non cadere! Speriamo di non cadere! Sì! Ok! È stato divertente! Cosa? Ma perché sta tossendo? Perché sta tossendo? Vinci! Ha vomitato! Guarda il nostro cagnolino ha vomitato! Che terribile! Si è sentito proprio male! Diavoletti! Il nostro cagnolino è molto strano! Ha anche vomitato! Guardate! Ha vomitato! Ok, Up! Dobbiamo tornare a casa! Perché non si sente bene? Vinci! Non si sente bene! Non si sente proprio bene! Sta chiudendo gli occhi! Non si sente bene! Vinci! Il nostro cagnolino... È svenuto! Il nostro cagnolino è svenuto! Guarda Vinci! È svenuto proprio! Perché non parla? Vinci! Perché non apri gli occhi? Perché non apri gli occhi? Ehi! 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 Svegliati! Diavoletti! Non si sveglia! Il nostro cagnolino non si sveglia! Dobbiamo chiamare qualcuno! Dobbiamo chiamare i soccorsi Vinci! Dobbiamo chiamare i soccorsi! Perché non apri gli occhi? Vinci guarda! Dobbiamo chiamare i soccorsi! Diavoletti! Commentate qui sotto! Povero Hop! Hop! Perché non ti svegli? Oh no! È proprio svenuto! È svenuto! Anna! Ok Vinci! Ho preso il telefono! Adesso chiamo i soccorsi! Diavoletti! Fateci compagnia! Perché guardate il nostro cagnolino! È proprio svenuto! È proprio svenuto! Che terribile! Dobbiamo chiamare subito i soccorsi! Ok! Sta squillando Vinci! Sta squillando! Guarda il nostro cagnolino! Non si sveglia! Non si sveglia! Sì! Sopo! Ehi! Sono i soccorsi? Sì! 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 Sono loro! Noi siamo nel parco perché il nostro cagnolino è svenuto! Secondo me è troppo stanco! È troppo stanco e non si sveglia! 5 giorni arriviamo! Avendiamo subito! Adesso corrono subito! Ok! Ok! Venite subito! Il nostro cagnolino si è ripreso! E adesso sta bevendo tantissima acqua! Eh sì! La cura è far bere tanta acqua! E adesso sta bevendo tanta acqua! Guardate! Baby Hope! Così ti riprendi! Meno male! I soccorsi ci hanno dato questa cura! Esatto! E dobbiamo seguirla! Così il nostro cagnolino sta meglio! Meno male che si è ripreso! Meno male che si è svegliato! Perché era proprio svenuto! E adesso sta continuando a bere! Che carino! Ok Vinci! Adesso passiamo al bagnetto d'acqua fresca! Adesso già sta meglio! Ma facciamo il bagnetto! Ok! È l'ora del bagnetto! Nuota un po' che ti fa bene! Bravo! Nuota dai! Fa anche caldo! Che ti fa molto bene! Dai! Ok! Così ti sentirai molto meglio e la cura! Ok! Diavoletti! Io lo vedo molto meglio e voi! Oh! Non vuole farsi il bagnetto! Dove fuggi? Dove fuggi? Dove fuggi? Non dormi! Non dormi! Non dormi! Deve riposare! E chi non dormi! Ecco Vinci! Sta per dormire! Così addormentato! Così addormentato! Grazie a tutti